80 giorni per la sentenza della causa bis dell'udienza civile sulle responsabilità per la morte di due ragazze, Jenny e Giusi Antonini in via Campodifossa la notte del 6 aprile del 2009. Oggi al Palazzo di Giustizia c'è stata l'udienza tecnica, velocissima, in cui il giudice Baldovino De Senzi ha sostanzialmente dettato i tempi per la sentenza. Udienza arrivata ad un mese dalla sentenza shock della giudice Monica Croci, che ha segnato il 30% delle responsabilità alle vittime per aver avuto un comportamento incauto nel non uscire di casa, sentenza che ha indignato l'Italia intera e per questo c'è molta attenzione rispetto alla sentenza che verrà fuori. La tesi finale è appunto che la responsabilità non può essere addebitata ai figli dei miei rappresentati per quanto è accaduto. Le vicende che ci sono state in quel periodo sono ben note. All'Aquila in quel periodo praticamente si viveva diciamo una vita tra virgolette tranquilla, sia pure con queste scosse che si ripetevano con frequenza, però tutto funzionava regolarmente, le scuole funzionavano, l'università era aperta, il clima era questo, si diceva che queste scosse sarebbero terminate e comunque erano la parte finale di una situazione che andava ad evolvere in maniera positiva. Questi ragazzi quando sono rientrati a casa dopo le scosse che c'erano state in precedenza, ritenevano comunque di occupare un immobile antisismico e questo pure che va tenuto in considerazione. Quindi non è che si può parlare di superficialità. La causa delle due sorelle doveva andare a sentenza con quella delle altre tre giovani vittime, ma ci fu un problema con i fascicoli che nel frattempo sono stati ricostruiti dai legali. Dunque il 26 ottobre è partita la causa Bisco, la prima udienza nella quale De Sensi ha dato appunto mandato ai legali delle parti di ricostruire i fascicoli riguardante la causa delle due sorelle. C'è molta attesa per vedere il comportamento del giudice, si userà lo stesso metro di giudizio della Croci o farà come in tutte le altre sentenze sui crolli, dando cioè la responsabilità agli eradi del costruttore e ai ministeri competenti. Sono state precisate le conclusioni, cioè l'ultima attività che si svolge in udienza, ora ci sono complessivamente 80 giorni di tempo per esporre definitivamente le difese e poi la sentenza. Diciamo, grosso modo la sentenza dovrebbe intervenire a primavera. Io personalmente non sono interessato dalla questione della riduzione del concorso di colpa perché io difendo il condominio, dunque non ho preso posizione in maniera ufficiale su questo.